Torno alle pensioni che ce li pagano gli stranieri. La scuola di Brescia, ieri a Brescia, la scuola elementare Alessandro Manzoni ha due prime di soli bimbi stranieri, quindi evidentemente significa che quando tu hai il lavoratore immigrato, integrato, regolare, che lavora, ha comunque spesso famiglie numerose di bimbi stranieri che sono tanti e quelli sono comunque costi sociali, i costi sociali legati all'immigrazione sono dei costi altissimi, il nostro sistema di welfare è un sistema che garantisce tante tutele e non può garantire a tutti.